Oggi è l'ennesima dimostrazione di come le forze dell'ordine della nostra città, in questo caso i carabinieri ottimamente guidati dal comandante Basilicata, stiano facendo un ottimo lavoro, egregiamente coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia, che sempre più con i numeri dimostra essere una delle migliori d'Italia. Questo è un grande, importante passo in avanti nel segno della legalità. Abbiamo bisogno in questa città di riaffermarla in tutti gli ambiti. Non esistono palazzi intoccabili e dunque in questo senso dobbiamo proseguire manifestando tutta la nostra solidarietà alla magistratura, difendendo le tante persone per bene che ci sono in questa città e che lavorano tutti i giorni e lo fanno onestamente.